I cinghiali a Roma Nord sembrano essere pura realtà, sembrano essere ormai una realtà consolidata. Roma Nord, parliamo della zona di Montemario, parliamo di dove si trova l'ospedale San Filippo Neri, parliamo anche però della zona trionfale, zone come queste che purtroppo ogni giorno vedono trovarsi cinghiali che pascolano e liberamente si divertono a girare per l'area in questione. I cinghiali che sono dei simpatici animali sicuramente sì, ma animali che in qualche maniera dovrebbero stare, dovrebbero rimanere, dovrebbero essere messi in condizioni migliori e soprattutto dovrebbero rimanere proprio in campagna, in aperta campagna. Come si fa a vedere a Roma, capitale d'Italia, cinghiali? Roma che è una città a tutti gli effetti, probabilmente questi cinghiali fanno parte di comuni limitrofi a Roma oppure aree, oppure chiamiamole zone molto verdeggianti di Roma che riescono, diciamo così, ad arrivare proprio anche a Montemario e quindi a Roma Nord. Detto questo, il problema in questione purtroppo sarebbe stato preso a più riprese, scusate il gioco di parole, su diversi quotidiani, su diverse testate giornalistiche che hanno deciso di portare all'attenzione di tutti il problema in questione. Io non aggiungo altro perché non voglio andare a prendermela contro chi che sia, anche perché questo problema non credo che sia da attribuire all'attuale classe politica che lavora per il bene di Roma, capitale d'Italia, ma questo è un problema molto molto antico, secondo la mia opinione personale. Grazie ancora a tutti per la visione e per l'ascolto, un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.